amici amatissimi le dimensioni di ciò che avete realizzato non solo nelle ultime settimane ma nel corso di un biegno di notevole progresso giunto ora strabilianti vette ci spinge a rivolgerci a voi che siete i visibili eserciti di un movimento che si è dimostrato inarrestabile lungi dall'essere un mero evento memorabile la celebrazione del bicentenario della nascita del bab è stata il frutto di otto cicli di devoto impegno affrontato in unità e con intrepido spirito iniziativa abbiamo gioito nel vedere gli amici così sicuri nel rispondere alla chiamata al servizio grazie a tutti 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 tutti grazie a 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 tutti